Tekken 8, a quanto pare la beta è confermata e arriverà nelle mani dei giocatori, un esperto ha svelato che Sony usa un linguaggio veramente assurdo nei brevetti che pubblica rispetto ai suoi concorrenti e PlayStation Q Lite, la console portatile, ci sono nuove indiscrezioni. Questo è altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast. Allora ragazzi, negli ultimi periodi abbiamo ragionato parecchio su questa ipotetica console portatile nuova di Sony, un qualcosa che dovrebbe arrivare in tempi abbastanza vicini, considerando che effettivamente è un po' che se ne sente parlare, che ci sono dei rumor e se ne è parlato molto proprio per le caratteristiche. Ma qui non parliamo delle caratteristiche, questa è una cosa di cui abbiamo già dibattuto e anche a lungo specie negli ultimi giorni. Parliamo un secondo invece delle tempistiche e la domanda giusta è quindi, come abbiamo detto prima, quando uscirà questa nuova console portatile? Bene, è proprio il nostro solito Tom Henderson a dire qualcosa al riguardo. PlayStation Q Lite, quando esce la nuova console portatile? Le ultime proprio da Tom Henderson. Non pago del polverone mediatico sollevato dal mega leak di PlayStation Q Lite, Tom Henderson torna sulla rumoreggiata console portatile di Sony per fornire delle interessanti anticipazioni sul mese di lancio e il nuovo gioiellino tecnologico del team PlayStation. L'ormai celebre leaker parte proprio dalle ultime indiscrezioni fatte rimbalzare in rete al giornalista Jeff Grabb e dalla redazione di Insider Gaming, profilo ulteriori aggiornamenti. Intervenuti ai micofoni di Iron Lords Podcast, Tom Henderson ha riassunto le numerose voci di corridoio per spiegare che la nuova console portatile del team PlayStation continua a essere prevista a lancio tra PS5 Pro, che le mie fonti danno in uscita più avanti del 2024, e il nuovo modello di PlayStation 5 con lettori di dischi rimuovibile previsto indicativamente per la fine di quest'anno. Allo stato attuale la nuova console portatile sembrerebbe essere destinata a uscire verso la fine di quest'anno, dice. Anderson ribadisce il concetto e offre ulteriori spunti di riflessione, sottolineando come Molte persone ritengono che verrà commercializzata il 2024, ma al momento sembra che il lancio sia pianificato per il mese di novembre del 2023. E ovviamente sono solo indiscrezioni, quindi possiamo prenderle solo come tali. Quindi, a quanto pare, ragazzi, non solo è un qualcosa che è già definito, ma è un qualcosa che sembra essere in procinto di essere... Non so se è lanciato sul mercato proprio quest'anno, ma sicuramente rivelato quello sì. Ed è una cosa che mi fa un po' specie, perché vuol dire che Sony sta lavorando a questa cosa già da molto tempo. Un po' i rumor precedenti, ammesso che uno abbia creduto a questi rumor, beh, l'avevano suggerito. Però erano comunque delle cose molto basilari e che, anche se la fonte era buona, tutto sommato contenevano ben poche informazioni. A sto giro, invece, abbiamo delle informazioni reali, cioè abbiamo un qualcosa che viene dato proprio in uscita per novembre di quest'anno. Il che è piuttosto solido come rumor, devo dire. E poi Tom Anderson sappiamo che, in effetti, di solito non mente, ok? E parla solo quando ha delle fonti che gli suggeriscono che questa sembra essere davvero la realtà. Quindi, ragazzi, la discussione che abbiamo fatto recentemente e tutte le supposizioni sul fatto che dovrebbe essere una console mirata principalmente all'utilizzo per il gaming in remoto, eccetera, eccetera, a quanto pare, se le indiscrezioni sono corrette, questa domanda avrà risposta abbastanza presto. E la cosa mi intriga assai. Nell'ultimo periodo, ragazzi, abbiamo parlato di Sony in certi termini, ok? Molte persone ce l'hanno con Sony per via del suo comportamento durante, diciamo, l'evoluzione dell'acquisizione di Activision Blizzard, però ci sono anche tante altre cose da dire. Io sono uno di quelli che, a dire la verità, non pensa che Sony stia facendo male in generale, perché sta comunque tirando fuori dei prodotti fantastici. e i due giochi dell'anno su tre degli ultimi anni sono i miei personali Game of the Year, quindi, voglio dire, una che fa dei giochi che apprezzi così tanto non è che può fare tutto sbagliato, ok? Però due cose, insomma, sono state dette e anche io ho molto criticato l'atteggiamento di Sony, soprattutto per quanto riguarda l'acquisizione. È venuta fuori una cosa, ragazzi, che io adesso ve la leggo e vi giuro, ho bisogno di voi a sto giro perché non riesco veramente a capirla. Esperto svela. Nei brevetti Sony definisce Microsoft e Nintendo inferiori. Non è una sorpresa che tutte le compagnie, non solo quelle che si occupano dei videogiochi, siano particolarmente gelose di quelle che brevettano. È più sorprendente, invece, quanto evidenziato da Florian Muller, esperto proprio nel mercato di brevetti, autore del blog specializzato Foss Patents, che in queste ore ha fatto parlare di una questione che coinvolge proprio l'industria videoludica, il linguaggio che Sony utilizzerebbe per riferirsi alle dirette concorrenti all'interno dei suoi brevetti. Come evidenziato da Muller attraverso VGC, da oltre una decade i brevetti di Sony denigrano Microsoft e Nintendo come produttori inferiori di console per videogiochi, un linguaggio che l'esperto di brevetti etichetta come gratuito, puerile e poco professionale. Qui c'è il tweet originale. All'interno del suo blog l'esperto approfondisce ulteriormente la questione, affermando di sapere che si tratta di una scelta di parole che va avanti almeno dal 2011 e che ritiene del tutto inadatta alla sede dei brevetti, perché i brevetti non sono intesi come strumenti di propaganda per i guerrieri della console war, aggiungo il cui luogo è appropriato soltanto se si trova alla seconda e al primo piano e si chiede della maestra De Angelis. In particolare, nei brevetti di Sony viene evidenziata la ricorrenza dell'espressione un sistema di intrattenimento da un produttore differente, sebbene inferiore. Quanto ai documenti si fa riferimento ad hardware Xbox o ad hardware di casa Nintendo? Secondo l'esperto. Fare riferimento ai concorrenti indicandoli generalmente come inferiori è gratuito, stupido, puerile e poco professionale. Anche se quei produttori fossero in effetti inferiori, non sarebbe a significare che qualsiasi invenzione di Sony un brevetto si proponga di descrivere per definizione quella sia innovativa e meritevole di tutela. E a tal proposito, Müller non le manda a dire nella sua analisi spiegando se Sony vuole fare pubblicità comparativa lo può fare ma in un'altra sede. I giocatori non sceglieranno quale prodotto acquistare in base al linguaggio utilizzato da Sony all'interno delle sue richieste di brevetto. E aggiungo, se hanno deciso di fare così, non sarà certo quello a cambiare la cosa. Secondo l'esperto, insomma, i documenti per la richiesta di un brevetto sono semplicemente la sede sbagliato dove utilizzare un linguaggio che mandi delle frecciatine ai diretti concorrenti. Dal momento che parliamo di carte riservate agli addetti ai lavori che devono descrivere in modo più chiaro possibile quanto intendono registrare. Cioè, sono carte tecniche queste qui. Müller evidenzia come questa espressione produttori differenti sebbene inferiori compaia in almeno una dozzina di brevetti depositati. E c'è una lista completa proprio a questo indirizzo qua che è su FossParents. Ed eccolo qui. Ok, questo è il blog, no? E sono tutti quanti indicati qua. Dal momento che anche il sito GameRant aveva approfondito la vicenda, Müller chiude la sua disamina spiegando che l'ipotesi avanzata dal sito, sia che Sony abbia inaspriti i toni dopo il via all'acquisizione di Activision Blizzard, non possa ritenersi fondata. La lista, mossa che Sony usa questo tipo di linguaggio in modo sistematico da oltre dieci anni, non è attribuibile all'orgoglio per aver inventato qualcosa. È solo folle. Per completezza, come segnalato pure da VGC, segnaliamo anche che Müller su LinkedIn riporta di aver lavorato in passato per Activision Blizzard, mentre nella sua descrizione sul blog afferma di avere tra i suoi clienti attuali anche Microsoft. Quindi, diciamo, qualcuno potrebbe pensare che sia interessata a questa cosa. PlayStation 5, Xbox Series XS, console di attuale generazione, sono disponibili sul mercato del M2020 e Switch invece a marzo 2017. Quindi quelli erano sul mercato da un po' quando Sony ha cominciato a fare questo tipo di esternazioni. Allora, ragazzi, qui perché vi chiedo che mi dovete aiutare? Perché io francamente non so minimamente che cosa pensare di tutto questo. Tanto per cominciare. Bisogna vedere se è vero o sì, perché ci sono tutte quante le documentazioni. Bisogna capire il contesto, perché appena ho letto questa cosa, vi dico che la mia prima reazione è stata di ma non è possibile. Cioè, ci deve essere una spiegazione di qualche tipo o una cosa che altrimenti è puerile, stupida e folle a un livello che io francamente non riesco neanche a definire. Ci deve essere una qualche ragione per cui tutto questo sta avvenendo. Quindi, se qualcuno di voi ce l'ha, una motivazione qualunque che magari mi dica no, no, guarda che nei brevetti succede spesso oppure no, no, guarda che in realtà la motivazione è questa cosa qui che non è stata detta, vi prego, ditemelo. Datemi un'altra informazione che possa spiegare il motivo per cui si utilizza questo linguaggio. Vi prego, ditemelo, perché se no io proprio non ho modo di capire che diavolo sta succedendo e mi sembra una cosa di una tale stupidità che in questi casi inizio a pensare di aver sbagliato qualcosa io nell'analisi e di non avere tutti quanti gli elementi, ok? Ma se tutto questo è vero, io non riesco... Cioè, che cosa porta tutto questo? Perché farlo? Che cosa ne ricava Sony? Non riesco a capire neanche questo. Cioè, ammesso che sia veramente così, esattamente come ha detto l'esperto, che tutto quanto, che in effetti pare essere documentato, eccetera, tutto questo sta accadendo da dieci anni e non c'è una motivazione reale precedente né una sorta di, non lo so, diciamo, consuetudine di scrivere queste cose nelle documentazioni per i brevetti. Vi giuro, non sto riuscendo a capire la motivazione per cui Sony debba fare una cosa del genere. Vi giuro che non lo sto capendo e vi prego, datemi una... Ditemi voi! E non mi uscite con le frasi tipo è perché Sony è cogliona oppure vaffan... No! Doveste prendere seriamente questa cosa come sto tentando disperatamente di fare io. Quale cacchio è la motivazione? Vi giuro, non lo so! Quindi, mi rimetto a voi. Io non... Qui sono proprio completamente al buio. Ho letto questa cosa e ancora non ho capito come questo possa portare un qualche vantaggio a Sony. Vi prego, spiegatemelo voi perché io proprio non ci arrivo. Ti piacciono le news? Allora non tirarti indietro come i malnati. Se ne hai la possibilità puoi abbonarti al canale. Diventa sponsor delle news così Chris può fare più news ancora meglio perché non è più povero. Abbonati al canale così Chris è felice tu supporti le news e le cose. Ora, torniamo alle news. E ora ragazzi passiamo al commento del giorno. Pino mi scrive Chris, ma cosa ne pensi di questi tempi biblici per sviluppare videogiochi? Dalle software house escono un gioco per generazione ormai forse forse due ma pochi riescono i vari tool usciti non dovevano snellire qualcosa? Beh, allora prima cosa da dire è che dipende dalla realtà ok? Non tutti i giochi richiedono tutto questo tempo enorme per essere sviluppati. stiamo parlando principalmente o del mondo tripla o di prodotti di estrema qualità che escono fuori da un team piccolo e quindi diciamo che stiamo parlando di prodotti di alto livello del mondo indie anche ogni tanto tipo quanto tempo ci ha voluto a fare Hades? No? L'abbiamo visto? O quanto tempo ci ha voluto a fare Stardew Valley? O anche dei giochi un po' più piccolini? È normale che questa realtà quando si tratta di poche persone in alcuni casi una come in questo ultimo caso che ho detto possa volerci un sacco di tempo però quello che hai detto è assolutamente vero nel senso che questa del tempo di sviluppo dei giochi è ormai riconosciuto come un serio problema da praticamente chiunque nell'industria e Jason Schreier ne ha parlato a lungo non solo nell'ultimo libro che ha fatto ma anche con articoli di approfondimento e con degli editoriali in cui sottolinea il fatto cioè delle realtà come per esempio sapete che una nuova IP che viene sviluppata oggi o meglio al lancio di PlayStation 5 diciamo così vedrà la luce soltanto con PlayStation 6 ecco questo porta praticamente un tale distacco tra le generazioni videoludiche e probabilmente quando un gioco viene sviluppato e richiede 6-7 anni per essere sviluppato siamo in un momento completamente diverso dell'industria a volte e questo è un problema ora per rispondere alla tua domanda più nel dettaglio non dovevano esserci tutti questi tool a cercare di ovviare a questa cosa in realtà sì in realtà sì sono già arrivati una parte e almeno da quello che mi hanno detto un paio di sviluppatori con cui ho avuto modo di parlare i mesi scorsi mi hanno detto chiaramente che queste cose già esistono per aiutare lo sviluppo ma non sono neanche lontanamente sufficienti cioè lo sviluppo richiede talmente tanto tempo a talmente tanti livelli e la qualità dei videogiochi si è così alzata che i mezzi tecnici per realizzarli non stanno dietro alla quantità di lavoro che viene richiesta per per arrivare a consegnare il prodotto finito quindi questo è un problema bello grosso e le aziende spingono il più possibile gli studi di sviluppo per tirare fuori i giochi il che è probabilmente la spiegazione definitiva col passare del tempo mi sto facendo anche questa idea dell'arrivo sul mercato di giochi non finiti cioè di giochi che hanno saltato proprio palesemente almeno una parte del controllo qualità e che arrivano sul mercato buggati mezzi rotti instabili soggetti a crash soggetti a ogni genere di problema ancora di più sul mondo pc perché come sapete ne soffre molto più del mondo console per definizione essendo il pc gaming un gaming in cui i componenti sono sempre diversi delle macchine quindi questa è la mia risposta cioè sta già succedendo che arrivano nuovi strumenti ma al momento nonostante siano arrivati ancora non basta e probabilmente almeno questa è un'idea del tutto mia quindi consideratela solo con una mia opinione quello che farà una differenza veramente importante nei prossimi anni è l'intelligenza artificiale e io personalmente mi aspetto un massiccio utilizzo di intelligenza artificiale nella realizzazione degli asset dei videogiochi questa è una cosa che francamente mi aspetto assai e potrebbe tra parentesi essere una risposta adeguata e abbastanza risolutiva per accorciare abbastanza il tempo di realizzazione dei videogiochi il che ci porterebbe però tutto un altro discorso sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale quindi lasciamo perdere e rimaniamo su questo e ora passiamo alle news a ruota ragazzi scusate ma la sono persa eccola qua Dead Island 2 un video di gameplay con i primi 11 minuti di gioco IGN ha pubblicato un video di gameplay con i primi 11 minuti di gioco dalla campagna Dead Island 2 l'action survival alla base di zombie arriva il 21 aprile quindi faranno molto di fatti Dead Island 2 è stato mostrato a IGN con un video di gameplay che include i primi 11 minuti le sequenze introduttive mostrano un uomo sopravvissuto lo schianto dell'aereo su cui stava viaggiando sopra Los Angeles ma tutt'altro che fuori pericolo visto che sembra che qualcosa di stanno sia accaduto alla città e l'improvviso arrivo di un'orda di zombie chiarisce quanto sia drammatica la situazione come sappiamo Dead Island 2 sarà ambientato a El Hay versione post-apocalittica di Los Angeles e a quanto pare i primi minuti della campagna costituiscono un effettivo prologo rispetto alla storia vera e propria del gioco quindi di fatto abbiamo visto il prologo in queste sequenze è possibile sperimentare alcuni elementi più promettenti dell'esperienza ovvero un sistema di combattimento viscerale consistente che permette di sentire ogni impatto la tecnologia Flash messa a punto da Dunbuster Studios consente inoltre di scarnificare letteralmente i non morti e incapacitarli in vari modi attaccando le gambe alle braccia oppure lanciarli lontano grazie alla forza dei nostri colpi eccetera eccetera tutte cose che già abbiamo visto del gioco e posso dirvi questo mano a mano che stanno mostrando nuove cose io sono sempre più intrigato da questo titolo che dovrebbe essere veramente divertente e dovrebbero aver fatto un gran bel lavoro con soprattutto queste cose che sono state citate non è detto che tutto quanto poi contribuisca a un'esperienza di gioco assolutamente imperdibile però queste cose mi intrigano e mi sa tanto che ve lo porto intero il gioco poi Final Fantasy XVI Final Fantasy VII Remake Rebirth Kingdom Hearts 4 usciranno mai su Xbox Series X questa è una domanda che viene lasciata aperta ed è una cosa che voglio ricordarvi perché sai si discute tanto dell'arrivo su console esclusività e cose del genere ma ci sono questi titoli che vabbè Final Fantasy VII Reunion è uscito anche su Xbox anche Sanger of Paradise The Diophil Chronicle tanti titoli di Square Enix d'accordo però Final Fantasy XVI Final Fantasy VII Remake e Rebirth non si sa minimamente neanche se usciranno per Xbox e quindi è una domanda che rimane aperta attenzione che la cosa che potrebbe cambiare è che dal 1 gennaio 2024 Square Enix potrà portare il gioco su altre piattaforme presumibilmente su PC mentre per quanto riguarda Xbox è ancora tutto avvolto nel mistero dal momento che Yoshida non ha nemmeno mai nominata la versione nelle piattaforme Microsoft e quindi purtroppo non c'è molto da dire ragazzi è una cosa che bisognerebbe iniziare a chiedersi perché come sapete se veramente un gioco è di terze parti e perde l'esclusività sarebbe bello vedere versioni alternative e il motivo per cui non escono sarebbe carino saperlo se non altro per informazione personale magari poi un motivo tecnico perché sapete sviluppare una versione in più può essere veramente fastidioso per lo sviluppo potrebbe richiedere un budget molto più alto però almeno a sapere che è così poi Tekken 8 è stata confermata ufficialmente la prova gratis attendete la beta noi l'avevamo saputo da uno streamer che ne aveva parlato probabilmente in maniera non diciamo che probabilmente non doveva dirlo ok ma Katsuhiro Harada alla fine coglie l'occasione della risposta a un tweet per invitare i fan ad attendere la beta i Tekken 8 confermando di fatto che una prova gratuita sarà poi disponibile per tutti i fan nelle prossime settimane però il director sfortunatamente non ha chiaramente potuto confermare una data d'uscita ufficiale per la versione beta però almeno ora sappiamo che c'è e quindi questa è una conferma di quello di cui parlavamo già qualche tempo fa e io continuo a dirvi ragazzi che io sto vedendo i video di Tekken 8 e sembrava essere veramente fighissimo ragazzi anche Seatfighter 6 cioè i picchiaduro di questa generazione sembra essere veramente belli almeno una prima occhiata poi bisogna giocarli cosa che assolutamente farò e non vedo l'ora di sapere che cosa succederà con Mortal Kombat io proprio non sto sto già sbavando all'idea poi Capcom guardate un po' Capcom Creative Studio tra Pragmata e Dragon's Dogma aperto un nuovo studio di Motion Capture ebbene sì il bellissimo Capcom Creative Studio è un'enorme struttura nella quale gli attori gli stuntman potranno utilizzare dispositivi altamente tecnologici per registrare i propri movimenti e poi convertirli in animazioni da utilizzare nei progetti della software house Capcom ha anche dichiarato che si tratta di uno degli edifici più grandi da quelli che ci sono oggi in Giappone e che sono adatti a tale scopo tema quindi che l'azienda nipponica abbia grandi piani per il futuro e voglia concentrare buona parte delle proprie forze su Motion Capture di qualità insomma non è da escludere che i futuri titoli provenienti dalle fucine dello studio giapponese proporranno sequenze altamente coinvolgenti per via dell'elevata qualità delle animazioni chissà se darai sui frutti con i giochi più attesi Capcom quali Pragmata e Dragon's Dogma 2 questa è una domanda legittima che però riguarda i giochi io pongo l'accento sul fatto che quando arriva una cosa del genere ragazzi vuol dire che se c'è un intero edificio vuol dire che è un investimento davvero importante anche per una casa di sviluppo che è piuttosto grandicella come Capcom beh è un investimento davvero importante questo qua non è da sottovalutare non è da dire va bene hanno fatto uno studio mica tanto ragazzi sono dei prezzi che io sono andato a vedere un paio di approfondimenti tecnici di chi parlava di questa roba avete idea di quanto costa questa roba adesso molto meno di prima la Motion Capture motivo per cui se la possono permettere anche studi di medie dimensioni quando prima era universalmente soltanto posseduta da le grandi produzioni cinematografiche ok si parla di tanti anni fa adesso è molto più abbordabile ma si parla sempre di un sacco di zeri quindi e e niente questa è l'ultima news e questo quindi è effettivamente un bel segnale chissà che cosa ci attende dal mondo Capcom e infine ragazzi per quanto riguarda l'offerta del giorno beh è molto semplice è un gioco che sta per uscire ovvero Star Wars Jedi Survivor che su Instant Gaming sta al 30% di sconto in preordine ovvero 48.79 euro io vi raccomando sempre di non preordinare ragazzi quindi sapete questa cosa potrebbe risultare ipocrita però no vi dico semplicemente casomai di salvare la pagina e di tenerla presente anche perché potrebbe abbassarsi ancora di qualche urino avvicinandosi all'uscita quando sapete Instant Gaming c'è sempre la politica del tentare di fare il pezzo più basso a prescindere è la versione Origin quindi verificate se è la versione che volete prendere ed è uno sconto piuttosto importante sui 70 che normalmente costerebbe quindi insomma tenetela presente e come sempre sappiate che se volete prenderla attraverso il link qui sotto in descrizione è un link affiliato quindi a me arriva qualcosina e quindi questa è una maniera per supportare il canale bene gente è tutto per il video di oggi grazie mille per averlo visto noi ci vediamo al prossimo mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al mio secondo canale e seguitemi anche su Twitch lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto supportate il canale tramite i link affiliati come Amazon Instant Gaming e Patreon e seguite la playlist con le Crystal News che escono come sempre alle 7 su YouTube e sul podcast a domani ragazzi a domani ragazzi